Per guidare questa nuova conquista dei reami mortali, le potenze rovinose chiamarono Arcaon, il prescelto eterno come loro eletto, proprio come una volta fecero a consumare il mondo che fu. Messo alla prova per questo ruolo, venne assalito da demoni di Khorne, Zincha e Nargol, ma tutti vennero divorati dal destrero mutaforma che Arcaon conosce come Dorcar fin dai tempi antichi. Soddisfatti, gli dei oscuri nominarono collettivamente Arcaon il gran maresciallo dell'Apocalisse, anche se gli rifiutò il favore del grande ratto cornuto, il più recente dei dei che l'eletto ha sempre disprezzato. Mentre le forze caotiche diventavano sempre più potenti, le bestie del caos trovarono con esse una causa comune. Fu anche in questo periodo che Arcaon legò i nuovi Gaunt Summoners alla sua volontà.